eccoci qua buongiorno a tutti cari amici cari amiche benvenuti bentornati qua su penelope e le sue carte oggi insieme andiamo a vedere che cosa ci aspetta per i prossimi due mesi quindi qui andiamo a vedere facciamo uno dei nostri soliti fra virgolette interattivi andiamo a vedere un po le previsioni diciamo ecco per i prossimi due mesi ovviamente due mesi che valgono dal momento in cui ognuno di voi vedrà questo video ok quindi come dico sempre per gli interattivi almeno che non siano previsioni settimanali mensili con una data che io stabilisco insomma nel video possono valere anche fra dieci anni dipende da quando ognuno di voi lo vedrà ok da lì partirà alla validità del video quindi quando mi chiedete ma io lo sto vedendo adesso è passato un anno questo interattivo è valido sì assolutamente sì ok quindi andiamo a vedere i prossimi paio di mesi un paio di mesi da oggi oggi e può essere appunto oggi nel momento in cui voi vedete questo video come vedete per allungare un po il brodo visto che ci dobbiamo fare compagnia e trascorriamo queste giornate perché oggi in cui sto parlando oggi ne abbiamo 18 marzo 2020 siamo in piena emergenza coronavirus lo dico perché doveste mai vedere questo video fra tre anni sappiate quello che sta succedendo e lo stato d'animo di questo momento particolare quindi allunghiamo il video che ci facciamo solo che compagnia vero fanciulle come vedete infatti mescolerò le carte direttamente con voi quindi verrà non tutte naturalmente vedrò di sbrigare un attimo però insomma vedrò di mischiare le carte con voi nel frattempo voi fate la vostra scelta scegliete uno dei tre mazzetti come vedete qui c'è la scarpetta quindi idealmente cominciate a scegliere va bene scarpetta dicevamo la barchetta questa è una barchettina barchetta e il pesciolino questo è un pesce di solito i pesci sono muti ma il nostro parla sempre allora scarpetta barca pesce fate la vostra scelta io mischierò le carte con voi e andiamo a vedere nei prossimi due mesi che cosa possiamo possiamo aspettarci ok andiamo a vedere un po la barchetta rossa andiamo a vedere la barchina rossa vediamo un pochino prossimi due mesi cosa ci può aspettare vediamo vediamo un pochino intanto mi potete raccontare so che voi lo vedrete registrato sto video però mentre io sono qualche mescolo perché tanto io commenti li leggo scrivetemi giù nei commenti cosa vi passa per la festa come passate intanto voi le vostre giornate come vedete come vivete voi la la situazione tanto poi io vi leggo e vi rispondo come sapete insomma vi leggo sempre leggo tutti i vostri commenti ma proprio tutti allora vediamo un po i prossimi due mesi per la barchetta rossa esattamente beh allora qui già si vede ora andiamo a vedere anche le altre carte vediamo le sibilline chiacchierine che queste parlano chiacchierano chiacchierano vediamo i prossimi due mesi per la barchetta rossa cosa si devono aspettare per chiunque vedrà questo video il mazzetto della barchetta rossa da qui a due mesi cosa si deve aspettare allora già qui si vede l'impossibilità ad uscire cioè queste carte sono chiarissime qui c'è proprio il desiderio la voglia di fare qualcosa insieme con qualcuno qui queste carte mi fanno vedere che c'è un qualcuno e noi naturalmente che vorremmo fare qualcosa celebrare fare qualcosa con qualcuno ma non si può uscire quindi qui ancora questo fanno vedere ah è uscita capovolta vedi la casa questo è un segnale perché io le sibille non le leggo capovolta e le leggo tutte dritte quindi si vede adesso mentre stavo mischiando che le raccoglievo mi si è capovolta inavvertitamente quindi va lasciata così io quando vedo gente butta le carte le rigira con le mani le me mi sento male è uscita così deve stare così detto questo allora qui mi pare evidente che se siete donne ma anche se siete uomini qui c'è una persona in special modo un uomo diciamo che ci interessa al quale uomo interessiamo io non so che uomo sia chi sia ok che ci vuol vedere vuol far qualcosa con noi vedete però tutte le carte qui mi fanno vedere che ancora c'è questa impossibilità ad uscire di casa ad uscire di casa mi raccomando perché qui la tentazione è forte di sgarrare attenzione in primis perché non va affatto in secondis perché io qui ci vedo anche una figura di legge che vi potrebbe fare un culosi ve lo dico subito quindi attenzione non si può uscire però qui fanno vedere la voglia molto molto forte di fare qualcosa insieme a questo signore a questo uomo oltre a questo qui ci potrebbe essere un uomo proprio in viaggio in viaggio come stavo dicendo in viaggio che potrebbe in qualche modo invitarvi da qualche parte perché perché vi vuol vedere perché dovete fare qualcosa insieme non so va bene oltre a questo però quello cos'altro che ci vedo qui ci potrebbe essere proprio o un intervento medico o una visita medica semplicemente che ahimè potrebbe venire rinviata che potrebbe saltare e questo se state guardando questo video adesso in questi giorni di emergenza virus è ovvio no è anche normale penso ora non rinvieranno proprio tutto ma molte cose voglio dire quindi è anche facile da da credere diciamo così visto il periodo in cui siamo qui fanno vedere ancora il discorso dello stare in casa il desiderio di uscire ma che ve lo dico a fare i fiori lavorare con i fiori e i bambini fiori e bambini bambini fiori questa mi è uscita sta combinazione mi è uscita anche un po di tempo fa quindi qui è sicuramente al parte questo cogliere i fiori in giardino magari siete fortunati fortunate che che lo avete ma che ve lo dico a fare qui vi vedo giocare quanto meno con i bambini ma anche fare qualcosa con i vostri figli o con dei con dei bambini magari proprio per lo studio per la scuola che li dovete aiutare visto che anche loro sono a casa almeno in questo periodo se invece vedrete questo video quando saremo fuori da questo periodo un pochino un pochino travagliato semplicemente qui potrebbero volerci dire comunque sia le stesse cose ma in un ambito diverso cioè farete qualcosa con i bambini eccetera va bene vediamo cosa ci dicono e infatti gli artisti vedete gruppo di artisti crea o unisciti a un gruppo di persone quindi questo no non lo fate comunque crea o unisciti a un gruppo di persone che condividano la tua arte per avere ispirazione amicizia e sostegno questo cosa vuol dire grazie a dio noi possiamo comunque seguire questo consiglio grazie a internet che è una potenza una cosa meravigliosa è proprio grazie a internet se noi oggi siamo qui insieme nonostante quello che stiamo vivendo quindi qui potete benissimo senza uscire da da casa lo vedo anche qui il gruppo di persone persone che cercano le amicizie gli amici e gli unirsi insieme ma invece che uscire da casa potete creare un gruppo un gruppo di persone unite anche adesso qui siamo un gruppo di persone che ci stiamo riunendo qui su penelo per le sue carte su questo canale no e siamo tutte insieme siamo tutte persone unite dalla stessa passione dagli stessi interessi che ci sentiamo ora volevo dirvi di scrivermi qui nei commenti se vi interessa potrei fare una diretta per esempio passare un'oretta insieme non so al di là delle domande alle carte ma proprio magari condividere le nostre paure anche se vuoi i nostri timori le nostre idee i nostri pensieri quindi sto pensando anche a quello poi mi direte quando vi risulta più comodo se la mattina al pomeriggio ok vediamo un po' un'altra carta che cosa ci dice quindi qui già le carte ci dicono e il ritiro no guardate no ragazze le sto mescolando con voi eh quindi sono uscite così quindi vedi qui il ritiro l'isolamento hai bisogno di concentrarti sulle tue priorità trascorri un po' di tempo da solo e in tranquillità quindi io direi qui c'è proprio la quarantena quindi vi hanno specificato proprio guardate come sono brave le mie carte rispettose di tutto del periodo del momento qui vi dicono riunitevi con un gruppo di persone che condividono no la vostra passione o qualcosa che anche a voi piace però fatelo in solitudine guardate guardate cosa sono le carte ragazze quindi l'avete visto lo mischiate ora con voi quindi qui fanno proprio vedere il fare qualcosa con altre persone riuniamoci tutti insieme magari come dicevo durante un video sulla mia chat se volete in community io posso aprire proprio una chat parliamo insomma di questo se volete lo posso fare va bene quindi io direi i prossimi due mesi qui ci vedono eh all'insegna diciamo così della dell'aggregamento dell'aggregazione di persone ma in solitudine quindi internet che è una via meravigliosa stessa cosa la potreste ricevere da questa persona qui c'è un uomo un uomo una persona almeno in particolare con cui potreste comunicare con cui potreste essere uniti o unite va bene per tramite internet visto il momento che stiamo che stiamo vivendo ok la cosa un pochino così che vedo qui il lavoro qui il lavoro patisce qui mi sa che siete fermi anche proprio con il lavoro con il fare non possiamo fare vorremmo fare tante cose ma purtroppo siamo siamo in un momento di freno ok ok come ho fatto per l'altro mazzetto andiamo a mischiare le carte per il pesciolino vediamo un po' per chiunque avesse scelto il mazzo del pesciolino che cosa ci riservano i prossimi due mesi come dicevo mentre mischio se volete sto pensando magari anche di fare una diretta uno di questi giorni ditemelo qui sotto nei commenti cosa ne pensate magari anche semplicemente per stare un'ora insieme ragazze cioè io posso anche non usare le carte semplicemente ci facciamo una chiacchierata e condividiamo magari le nostre ansie i nostri pensieri le nostre paure anche perché no il nostro disagio insomma potremmo fare potrei aprire anche una chat se volete qui in community io la apro e ci possiamo semplicemente sfogare condividere i nostri pensieri ecco mettere un gruppo diciamo così un luogo di ritrovo dove possiamo parlare mi raccomando sempre educazione rispetto non diciamo volgarità se no sono costretta a cancellare perché se no ci becchiamo tutti una denuncia quindi parlare sì ma in un certo modo tanto ci sono tanti modi di dire le cose va bene ok vediamo i prossimi due mesi che cosa ci riserva chi ha scelto il pesciolino vediamo un po' come saranno i prossimi due mesi ovviamente da quando voi vedrete questo video quindi non è detto che sia adesso marzo 2020 ma può essere anche fra tre anni ok beh diciamo che qui le carte parlano la stessa lingua anche qui cosa dicono qui sicuramente c'è internet che vi viene in aiuto qui vedo il raggruppamento di persone raggruppamento di persone via ethere via ethere perché con gli amici non ci possiamo vedere quindi qui sicuramente c'è un senso di solitudine qui insomma la situazione si patisce qui ci si sente soli si sa che non si può stare al pubblico non si può stare fra la gente vediamo un pochino esatto vedete esattamente qui la solitudine si sente forte c'è po' da fare ci potrebbe essere anche la lontananza la mancanza di un familiare di un familiare o comunque di persona o persone a noi molto 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 care quindi qui insomma c'è questo senso di abbandono di solitudine di mancanza diciamo ok quindi questa situazione la si sta soffrendo in modo fa questa situazione ripeto se state vedendo questo video nel 2028 vale lo stesso semplicemente ci si sente soli isolati quindi qui c'è un senso proprio di solitudine molto molto forte anche se io qui vedo che ci potrebbe essere un alleviamento diciamo di queste cose stando insieme magari anche proprio tramite i canali web e i canali internet ok quindi in qualche modo insomma ce la sfanghiamo anche se il senso di solitudine magari siete lontani dalla vostra famiglia per un qualche motivo capito? vediamo un po' cosa aggiungono queste chiacchierine esatto qui le carte sono chiarissime qui c'è una persona a noi molto molto cara vedete molto molto cara che ci deve star lontano qui c'è la prigione quindi o abbiamo semplicemente un nostro caro in quarantena in solitudine isolato da qualche parte o comunque sia proprio siamo costretti a stare lontani lontane da questa persona anche se questa persona c'è nel senso insomma ci tiene a noi e noi a lui lei va bene? andiamo a vedere un po' resta fedele a te stesso e Vergine Maria allora resta fedele a te stesso non scendere a compromessi e non mitigare le tue idee resta fedele a te stesso ascolta la tua voce interiore e fidati di lei e seguila la Santa Madre ti sta aiutando da perseguire lo scopo divino della tua vita e questo lo posso vedere anche da questa carta meravigliosa ok? quindi qui siamo aiutati siamo aiutati dal dal cielo quindi sicuramente se avete un angelo lassù questa persona insomma diciamo vi foggia la sua mano sulla sulla spalla e non vi molla va bene? quindi qui come dicevo ci vedo un po' questa quarantena la prigione che ve lo dico a fare magari potreste proprio avere il fidanzato in carcere quindi la carcere il carcere vero proprio nel vero senso della parola in tutti i sensi vediamo eh andiamo a vedere tiriamo un'altra carta forza quindi qui vincita tutto ciò che hai sperimentato nella vita ti ha reso forte e coraggioso io qui ci vedo proprio un invito alla forza a tenere duro a non mollare essere coraggioso gli animali quindi sicuramente potreste avere potreste avere magari essere non so un volontario una volontaria in un qualche canile ok lo vedo anche da queste carte mettendole insieme a queste eccetera eccetera ma anche queste volendo quindi qui forza sicuramente vi darete da fare potrete aiutare il prossimo comunque anche da questo isolamento in cui in cui vi vedo qui tutte le carte mi parlano di solitudine e isolamento quindi potreste essere vabbè adesso lo siamo tutti però dipende come dicevo da quando vedrete voi questo video quindi qui le carte le carte vi incitano ad andare avanti a non mollare anche se come dicevo qui ecco c'è bisogno di tanta forza e coraggio ma sicuramente lo avete e lo troverete andiamo avanti eccoci giunti alla scarpina blu andiamo a vedere i prossimi due mesi come saranno per voi che avete scelto la scarpetta blu come ho detto agli altri mazzetti se volete io posso organizzare anche non so una diretta per stare insieme un'oretta ora al di là delle carte ma proprio per stare insieme un'oretta parlare sfogarci condividere magari la situazione nella nostra città le nostre emozioni le nostre paure anche se volete ok quindi ditemelo qui nei commenti fatemelo sapere che io vi leggo potrei anche aprire una chat nel frattempo in community una chat proprio una chat per parlare e stare insieme quindi aperta 24 ore il giorno ogni giorno in cui possiamo ritrovarci e parlare sempre qui sul sul canale cosa ne dite fatemi sapere ok quindi un punto di ritrovo in ogni momento del giorno e della notte potrete trovare qualche anima come voi che ha bisogno di parlare e di sfogarsi quindi lo posso fare anzi sicuramente l'aprirò ok quindi sempre sul canale Penelo per le sue carte invece che sul video cercate community e lì potrete scrivere sfogarvi allora andiamo a vedere i prossimi due mesi come dicevo possano essere anche fra dieci anni da oggi valgono per il momento in cui vedete questo video vediamo i prossimi due mesi per la scarpina blu andiamo a vedere che cosa ci prospettano queste carte allora andiamo a vedere fatemi sapere nei commenti come state cosa fate quali sono i vostri pensieri insomma usiamo questi social network questo youtube che è fantastico anche per unirci in un momento così insomma possiamo condividere i nostri pensieri allora vediamo un po' beh qui sicuramente c'è anche qui molto forte le carte parlano sembra che parlino veramente tutte la stessa lingua andiamo a vedere anche le sibilline chiacchierine qui ovviamente ovviamente fanno vedere il blocco quindi qui c'è una una tristezza diciamo anche per il lavoro qui mi sa che anche in questo gruppo c'è gente che insomma è un pochino fermo anche lavorativamente lavorativamente parlando quindi non credo siate tutti casalinghi o casalinghe qui c'è anche la preoccupazione la tristezza per un uomo per un uomo quindi se siete voi l'uomo non so ma potreste avere un uomo a cui rivolgete il vostro pensiero anche proprio un ragazzo giovane perché qui ci vedo proprio l'amarezza la tristezza l'impianto l'incapacità di decidere quindi qui c'è c'è un qualcosa c'è un'interruzione anche non ci possiamo vedere non ci possiamo incontrare quindi qui si sta vivendo vivremo una situazione di blocco fra noi e questa persona quindi magari semplicemente un centranulla o l'emergenza semplicemente ecco ci sarà un blocco comunicativo anche se vuoi con una persona a cui invece noi teniamo teniamo molto specie se di sesso maschile andiamo a vedere esattamente vedi qui c'è la malinconia c'è la voglia di incontrare di vedere questa persona e non lo possiamo non lo possiamo fare qui c'è nostalgia manca proprio il vedere gli amici il riunirsi il vedersi però insomma dai esiste internet esiste skype ma anche con whatsapp c'è la videochiamata di gruppo addirittura io l'ho riscoperto l'ho scoperto con delle amiche ci stiamo ritrovando ci stiamo sentendo videochiamando la chiamata di gruppo con whatsapp con skype insomma ce ne sono di vie per poterci vedere e stare insieme va bene ok come dico io nessun incontro con nessuno vale la nostra vita e ora uscire trasgredire ora può significare proprio quello vediamo un pochino nei prossimi due mesi nei prossimi due mesi cosa mi posso aspettare e qui un blocco della nostra situazione sicuramente qualunque essa sia ma anche il lavoro è fermo anche il lavoro è fermo comunque insomma rallentato ci sono delle difficoltà oggettive fragilità le tue fragilità apportano saggezza e ispirazione ascolta e prega affinché tu riesca a concentrarti nelle tue priorità espressione creativa espressione creativa la creatività divina si esprime attraverso le tue azioni quindi qui ragazze e ragazze ora andiamo a vedere anche queste però qui mi richiama tutto diciamo che qui si sa c'è questo rimpianto questo dispiacere che non ci possiamo esprimere come vorremmo anche lavorativamente parlando qui c'è il desiderio di uscita di rivedere gli amici di vedere persone di lavorare di fare anche qualcosa però sicuramente insomma potreste trovare il modo di farlo da come vi dicevo io usando questi mezzi di comunicazione che grazie a Dio oggi ci sono pensiamo a quando non c'erano e veramente la gente era isolata vedete counseling quindi qui potreste potreste comunica e i fiori nuovamente quindi guarisci con parole gentili saggi consigli e un ascolto empatico quindi un po' quello che mi sto proponendo di fare io quindi di aprire una chat in cui possiamo ritrovarci un po' tutti sfogarci condividere le nostre cose quindi qui ecco c'è un po' un blocco diciamo così di questa situazione però la consolazione la consolazione per questo momento un po' malinconico un po' nostalgico io la vedo e la potreste trovare esprimendo voi stessi voi stesse in altri modi come comunicando con altre persone aggregandovi ad altri ma non incontrandole naturalmente quindi ecco per altre vie per altre vie una di queste potrebbe essere proprio internet proprio quello che stiamo facendo noi adesso va bene mi raccomando andate a vedere nella nella mia community perché ho intenzione di aprire una chat in cui potrete e potremo insieme comunicare sfogarci condividere diciamo così quelli che sono i nostri i nostri pensieri diciamo così del del momento va bene fanciulle fanciulli io anche per questo video vi ringrazio vi raccomando iscrivetevi a questo canale anche perché farò spero di poter fare delle dirette così quando mi piglia a me gli appuntamenti non mi piacciono anche perché insomma qui si naviga a vista quindi quando ne sentirò la necessità accenderò il video arriverò in diretta e se non siete iscritti al canale non lo vedrete mai io vi ringrazio vi abbraccio tutti e ricordiamoci ragazzi veramente noi siamo l'Italia ok ce la faremo a presto ciao ciao